Ben ritrovati allo speciale Volley tutto dedicato alla New Mater Castellana Grotti. Io sono molto contenta questo pomeriggio di avere in nostra compagnia il presidente Gaetano Carpinelli. Benvenuto. Grazie a voi dell'invito onorato di partecipare a questa trasmissione seguitissima. I ragazzi mi dicono che riuscite a dare grande importanza a quello che stiamo facendo anche per la città di Bari. Speriamo di farli anche divertire io ne sono certa vengono qui ne parlavamo prima anche un po' spaventati e intimiditi però poi davanti alle telecamere si sciolgono e si divertono. Poi si divertono. Allora c'è stata la partita sabato l'ultima invece ieri un recupero della quarta giornata contro il Trento purtroppo una sconfitta però sabato è arrivata anche la vittoria. Bisogna ancora ambientarsi in questa superlega no presidente? Beh diciamo che ieri abbiamo comunque disputato un'ottima gara dal punto di vista tecnico tattico è chiaro che l'avversario che abbiamo di fronte era è molto ben più attrezzato rispetto a noi ma abbiamo tenuto testa per tre set e forse recriminando qualcosa su noi stessi potevamo anche un punticino strapparlo ma i ragazzi sono stati fantastici e sulla scia soprattutto anche come diceva lei della vittoria della scorsa partita stanno migliorando e crescendo partita dopo partita è una questione di ambientamento è una questione di ritmi di conoscenze tra tra di loro e soprattutto di applicazione delle tattiche dell'allenatore del coach lavorano tanto su questo almeno lo siamo consapevoli. Ebbè anche una questione di approccio no alla superlega molti di loro non l'avevano mai conosciuta un approccio anche con le big di questo campionato. Assolutamente non non solo parliamo di big del campionato ma parliamo di squadre che hanno una loro valenza soprattutto anche a livello internazionale che disputano tutti i campionati internazionali e soprattutto hanno possono contare tra le loro fila giocatori di livello appunto internazionale campioni del mondo campioni di champions per cui assolutamente è uno dei campionati più belli del mondo non a caso per questo motivo. E la passione insomma si percepisce dalle sue parole presidente noi parleremo tra pochissimo anche delle big perché ricordiamo che insomma questo weekend Bari ospiterà le finali di Coppa Italia però ritorniamo sulla partita anzi restiamo sulla partita disputata ieri in casa andiamo a sentire insieme le parole di coach Lorizio e poi le commentiamo insieme. Purtroppo è la caratteristica della nostra squadra che subiamo un po' troppo le cose esterne no quello che viene all'esterno del campo da gioco dobbiamo migliorare dal punto di vista caratteriale dobbiamo essere più cinici più cattivi non dobbiamo pensare alla palla precedente dobbiamo pensare sempre a quello che deve succedere dopo e andare avanti però stasera io credo che non abbiamo fatto una cattiva figura contro di loro perché loro poi hanno deciso di continuare a rischiare in battuta e gli è andata bene mentre noi poi un po' abbiamo mollato la battuta che ci aveva fatto fare dei bei break i primi il primo set soprattutto e durante tutta la partita. Coach in questo inizio di girone di ritorno si è vista una new matter con un atteggiamento molto diverso rispetto al girone di andata crede che finalmente al di là dei risultati questa squadra abbia ritrovato fiducia in se stessa? Io credo di sì credo di sì a parte l'atteggiamento ma siamo anche cresciuti da tutti i punti di vista sia tecnico che tattico è chiaro che poi quando c'è un risultato ciao Ross quando c'è ci sono i risultati positivi ti aiutano poi in palestra a lavorare meglio e con più fame e questo dobbiamo farlo sempre noi non dobbiamo pensare al risultato noi quello che ho chiesto a fine girone di andata ai ragazzi di di non pensare ai risultati di venire in palestra sempre con la fame che 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 dobbiamo avere noi. Intanto ringrazio Michele Carofiglio per le interviste tra pochissimo andremo a sentire anche Matteo Paris abbiamo visto dimenticato di commentarlo sia gli elites che poi la classifica e i risultati dell'ultima giornata insomma una new matter che sta crescendo dal punto di vista del dell'approccio dello stare in campo a cui manca anche cattiveria però bisogna aggiungere un tassello di difficoltà in più per questi ragazzi no una questione proprio tecnica perché ricordiamo che la new matter per impegni per fortuna del palaflorio che è sempre pieno e siamo ben contenti sono costretti ad allenarsi ancora nel palagrotte me lo diceva prima telecamere spente è sempre una trasferta quella di Bari per noi non giochiamo mai in casa certo certo perché allenandosi tutti i giorni al palagrotte venendo a giocare la partita che dovrebbe essere in casa al palaflorio è chiaro che vengono meno alcune certezze che darebbe il campo amico di Castellana Grotte anche il favore del pubblico magari potrebbe essere anche più numeroso più caloroso però a Bari devo dire che l'accoglienza è stata è stata delle migliori da tutti i punti di vista subiamo un po' questo diciamo questa mancanza di conoscenza dell'ambiente palazzetto del campo da gioco palazzetto ma come giustamente ha detto il mister i ragazzi lavorano sodo ci vuole tempo il lavoro c'è nulla da dire da recriminare in questo e stanno crescendo assolutamente considerando che è un gruppo nuovo per cui diciamo che un po' ci sta tutto il risultato che abbiamo raggiunto finora insomma tempo al tempo una nuova versione lo vediamo in una nuova versione Matteo Paris andiamo a sentire le sue parole bella è stata veramente una bella partita dispiace per l'ultimo set che abbiamo un po' mollato peccato perché era una partita veramente bella divertente bella da giocare devo fare complimenti alla mia squadra perché abbiamo lottato contro uno squadrone che tra tre giorni si gioca la Coppa Italia e abbiamo giocato alla pari e c'è un po c'è molto rammarico perché i primi tre set eravamo sempre davanti specialmente il terzo 23 21 si potava fare un pochino meglio però io se guardo la prestazione sono molto contento molto soddisfatto e molto orgoglioso della mia squadra sì abbiamo fatto una partita come l'avevamo preparata tecnicamente come l'avevamo preparata tatticamente anche come l'avevamo preparata e poi loro sì sono usciti fuori in battuta vabbè ma loro sono giocatori di assoluto livello peccato perché noi non dobbiamo mollare nel quarto set anche se siamo stanchi anche se di là sono più forti ma tutte le partite fanno crescere io penso anche quando per di maniera brutta noi siamo stati condizionati molto dalla partita abbiamo fatto in casa con Vibo quella secondo me ha cambiato un po' la stagione poi siamo stati bravissimi a riprenderci dopo la sconfitta che è stata uguale a ritorno con Vibo abbiamo fatto due grandissime partite ebbè insomma queste le parole dello sbarbato Matteo Paris che è successo? ebbè sono ragazzi si divertono si ripuliscono si colorano i capelli ho saputo di questa piccola tradizione no? di chi arriva per la prima volta in Superlega tant'è che abbiamo avuto cavaccini qui con la barba gialla sono questioni di spogliatoio alza le mani giustamente allora lo ha detto anche Matteo Paris nella sua intervista Bari ospiterà le finali di Coppa Italia la settimana scorsa stando la settimana scorsa insomma i dati fornitici c'è tanto movimento no? quasi un sold out al palaflorio per sabato e domenica c'è movimento intorno alla pallavolo e speriamo l'ho detto anche giovedì scorso presidente che questo possa essere anche un incitamento per poi venire a seguire la New Mater e creare lo stesso movimento lo stesso rumore intorno a questi ragazzi perché se lo meritano diciamo la verità certo indubbiamente Bari ha avuto quest'anno la possibilità per la prima volta di poter assistere alle partite di superlega come dicevo poc'anzi che è ritenuto uno dei più bei campionati a livello mondiale di pallavolo questione finali di Coppa Italia a Bari consideriamo che la Puglia è una delle regioni con maggiori iscritti a livello di tesserati a livello di società e associazioni pallavolistiche d'Italia per cui il fatto di aver portato qui a Bari le finali di Coppa Italia chiaramente il aver riempito il palazzetto in ogni ordine di posti la dice lunga di come comunque questo sport ha una grande attenzione nella nostra regione e sarete anche voi sugli spalti questo weekend insomma per godervi lo spettacolo perché quello che sarà comunque sarà uno spettacolo ad alto livello sicuramente ci sarà da divertirsi allora presidente io davvero la ringrazio per essere stato qui con noi l'aspetto grazie a voi è una promessa che le strappo senza altro grazie grazie per l'invito e grazie per l'attenzione che avete nei confronti della nostra società della nostra squadra e che Bari ci sta regalando quest'anno anche questa soddisfazione grazie a Gaetano Carpinelli presidente della New Matter grazie anche a voi per averci seguito l'appuntamento con la pallavolo torna giovedì prossimo buon pomeriggio a tutti